Parliamoci chiaro, chiunque vuole una schiena più spessa e più larga Il problema è che nelle palestre, soprattutto italiane, vengono fatte queste schedine con tutti gli esercizi ridondanti Ridondanti cosa significa? Significa che finiscono per allenare il muscolo nello stesso identico modo E di conseguenza si finisce per buttare via tantissimo tempo in palestra Accumulando fatica, fatica che anzi andrà a ripercuotere sull'allenamento stesso Andando a rendere ciascuna serie, ciascun esercizio che noi andremo a fare Meno efficace da un punto di vista di stimolo muscolare In più andrà ad impattare gli allenamenti successivi per via dell'accumulo del danno muscolare Danno muscolare che contrariamente a quanto ancora i personal trainer cazzari e preparatori storici che continuano a dire Il danno muscolare non è uno stimolo per nessuno natural e nonna Ma è un nemico per l'aumento di massa muscolare Che se ancora presente prima di un allenamento va a ridurre lo stimolo ipertrofico che quell'allenamento ci andrà a dare Ora se ti stai domandando Oh ma chi è questo tizio che ha iniziato il video così aggressivo, così contro tutti Ciao piacere il mio nome è Eduardo Baldini Questo è il mio canale Sono qua dal lontano 2016 E dal lontano 2016 combatto contro la cattiva informazione inerente il mondo del fitness E in questo caso parlo di allenamento Quindi qui non parliamo delle mie opinioni Non parliamo perché a me piaccia un qualcosa Non e quindi a vedere ciò che gli studi ci dicono E lo andiamo ad applicare nell'allenamento di tutti i giorni Questo è importante E io non ti do le mie opinioni Cosa che invece fanno la maggior parte delle persone E quindi non possono che essere definiti cazzari Ora per affrontare questa tematica Ci dobbiamo andare a ricordare come si è costituita la schiena La schiena è fatta da tanti muscoli E li possiamo andare a distinguere in due categorie Abbiamo i dorsali Che è questo muscolo grande qua Con tre andamenti delle fibre differenti Abbiamo le fibre alte del dorsale Le fibre basse del dorsale E le fibre più esterne del dorsale E poi abbiamo i muscoli dell'upper back Di cui il muscolo principale è il trapezzo Quello su cui ci vogliamo concentrare maggiormente E all'interno di questi muscoli dell'upper back Possiamo anche far rientrare un muscolo Che segue un po' delle logiche differenti Ma che praticamente viene sempre lavorato Nei classici movimenti di schiena Tranne piccole eccezioni Ovvero il deltoide posteriore E per affrontare questa tematica Dobbiamo anche andarci a ricordare Quali siano i piani di lavoro Su cui noi possiamo andare ad allenare la schiena Ne abbiamo tre Il primo piano è il piano frontale Che è quando il nostro braccio è allineato al nostro corpo Dopodiché abbiamo il piano sagittale Che invece è quando i gomiti sono attaccati al corpo E infine abbiamo il piano scapolare Che è più o meno quando il braccio Non è né completamente aperto Né completamente chiuso Ma è una via di mezzo Più o meno sui 30 gradi Tra l'altro se non ti sei ancora iscritto Iscriviti perché questa qualità di informazioni Non te la da nessuno E almeno tu ti salvi dalla pessima informazione E invece di metterci magari un anno Ad ottenere risultati Magari se ce ne metti la metà del tempo Male non fa E sei anche più contento Tanto è gratis Oltre a ciò Noi ci vogliamo ricordare Che contrariamente Quanto ancora Quei preparatori Delle palestrine italiane Che gli piace tramandare le informazioni Basate sul nulla Perché se tu gli dici Amico mio Edoardo Baldini mi ha fornito Più di 5 studi Dove mi dicono Che le altre ripetizioni Non hanno senso Tu me le sai fornire Ah no Cioè è una tua opinione Ah ok ok Magari la prossima volta Mi metto le cuffie nell'orecchio E non ti ascolto più Scusatemi se sono così aggressivo oggi Ma ricevo alcune volte Certi messaggi di persone Con cui ho modo di parlare Che vengono influenzate Da gente che veramente Dovrebbe stare zitta E mi rendono nervoso Perché sono qua da 8 anni E ancora Alcuni messaggi Non sono passati Comunque ecco Non ha senso Andare ad allenare la schiena A prescindere che si stia parlando Di dorsali Di upper back Di delto di posteriori Con le altre ripetizioni Perché le altre ripetizioni Come puoi leggere Se sai leggere gli studi Non ci vanno a dare Nessun beneficio in più Rispetto a ripetizioni Che vanno dalle 4 Alle 8 Ma Ci fanno accumulare Più fatica E più danno muscolare Attenzione Non è che se le faccio Mi viene l'ebola Semplicemente Se il tuo obiettivo È quello di massimizzare E ottenere più risultati possibili Nel minor tempo possibile Magari ecco Non ti conviene Andarla ad utilizzare Ora Prima di proseguire Hai già compreso Di che qualità Di informazioni Stiamo parlando Se una volta Finito di vedere il video Vorrei smettere di allenarti Con le schedine sfigate Tipo questi foglietti brutti Che ti danno in palestra Questi qua Ok Questi con le scrittine Così Che ti fai tutte le settimane La stessa roba Ecco Lascia perdere Ho un pacchetto Chiamato a scienza dura Che ad oggi Conta 40 programmi Di allenamento Dove un programma D'allenamento Adesso ti faccio vedere Non è una schedina sfigata Ma sono 100 e passa pagine 100 e passa pagine Pratiche Non teoriche Ci mancherebbe Dove praticamente Ti do un programma E tu di settimana in settimana Sai come andare a progredire Perché la schedina sfigata È uguale di settimana in settimana No Io ti dico come andare a progredire Cosa andare a cambiare Di settimana in settimana Il numero di serie Il numero di ripetizioni Ogni esercizio Ha un link Che ti riporta al proprio video tutorial Così sei a posto Oltre a ciò Ne puoi prendere anche solo uno Per esempio Adesso è uscito il nuovissimo Full body duro Volume 5.0 Che dopo il grandissimo successo Del 4.0 È uscita la nuova edizione Fra l'altro è anche scontata Quindi la puoi prendere A un prezzo ridotto Già i prezzi Sono bassi Ma quando faccio il lancio Sarà ancora più bassi Lo prendi Ne prendi solo uno Completo di tutto Non devi pensare a nulla Vai ad allenare Tutto il corpo Sia in palestra Che a casa Tre volte a settimana Otieni risultati Ogni programma dura Tre mesi E una volta finito Ne puoi prendere O un altro singolo O ancora meglio Fare l'upgrade Dall'intero pacchetto Di 40 programmi E ottenere tutti quelli futuri Gratis Attenzione Pagando sulla differenza Quindi meglio di così Non si può Se non sai quale programma Possa fare per te Scrivi a questo email qua Scrivi a questo whatsapp qui Ti aiuteranno i miei collaboratori A chiarire Quali sia il migliore Per la tua situazione Ora Chiariamo un altro punto Molto importante Molto spesso Si pensa che più un esercizio Vada a lavorare Tanti muscoli Meglio sia In realtà no In realtà Meno muscoli Un esercizio vada a lavorare E migliore sia l'enfasi Di quell'esercizio Per il muscolo Di nostro interesse Meglio è E di conseguenza Molto spesso Più un esercizio è stabile Chiaramente Fra gli esercizi buoni Ok Non è che io mi vado a fare Un esercizio che non abbia senso E dico Eh però è stabile Quindi sarà buono No Un esercizio stabile Fatto bene È migliore di un esercizio instabile Fatto bene Perché ci ricordiamo Che più noi riusciamo A portare vicini al cedimento Il muscolo Di nostro interesse Più quel muscolo Riceverà Ripetizioni ipertrofiche Quindi uno stimolo ipertrofico Quindi tensione meccanica E quindi risultati Perché sì Contrariamente a quanto ancora Possono continuarti a dire La tensione meccanica È l'unico meccanismo Che porta aumento di massa muscolare Tutto il resto È noia Non è vero E oltre a ciò Lo devo ripetere ancora di più Se una persona fa tutte le cose Nel modo corretto Ho fatto un video Anzi ne ho fatti molti di più Di uno solo Va a fare la multifrequenza Nel modo giusto Quindi andare ad allenare La schiena Che sia il dorso Che sia l'upperback Più di una volta a settimana Ma solo se fatta nel modo giusto Può portare più risultati Quindi farci mettere Più massa muscolare Ma deve essere fatta bene Perché se una persona Mi fa alte ripetizioni Mille esercizi Bassissimi tempi di recupero Tutti esercizi Che mettono maggiore enfasi In allungamento Allora la monofrequenza è meglio Ma se una persona Fa la multifrequenza intelligente Può ottenere più risultati Della monofrequenza Attenzione Non sto dicendo Che la monofrequenza non funzioni Sto dicendo Che la multifrequenza Fatta bene È superiore Studia la mano Non perché lo pensi io Se qualcuno dice Ah ma non è così Lo invito a mettere gli studi Nei commenti E sono certo Che non ve ne saranno Ora Quali sono gli esercizi Quindi parliamo Della tematica Di questo video Ovvero quali sono gli esercizi Che noi non vorremmo Andare a fare Nella stessa sessione D'allenamento Stiamo parlando Di tutti gli esercizi Sul piano sagittale Ovvero Esercizi che abbiano i gomiti Chiusi E in particolar modo Quali per esempio Non vogliamo andare a fare Nello stesso giorno di allenamento Perché sarebbero ridondanti Ovvero andrebbero a lavorare Le stesse parti del muscolo Nello stesso identico modo E quindi non ci fanno altro Che tra virgolette Sprecare tempo Perché lo stimolo Che riceveremo Dall'esercizio doppione Dall'esercizio che ci stimola Come nel primo esercizio Praticamente non ci serve A un granché Stiamo per esempio Parlando di Latt machine Impugnatura neutra Come si vede in questo caso qua Insieme per esempio A delle trazioni Presa stretta Sono degli esercizi Completamente identici Perché il picco In questo caso qua Di resistenza È in contrazione In contrazione Il muscolo principale A lavorare è il dorsale In particolar modo Sono le fibre alte Del dorsale E quindi Noi andiamo a lavorare Le fibre alte del dorsale Oltre a ciò In questo esercizio qua Andiamo anche a lavorare Il deltoide posteriore E ciò avviene In entrambi gli esercizi Quindi non ha senso Per esempio andare a fare Latt machine E andare a fare Le trazioni Presa neutra Attenzione Questo non vale Qualori andassi ad utilizzare Un'impugnatura Prona larga Perché in quel caso Il discorso cambia completamente E con un'impugnatura Prona larga Sia che sia Nella latta machine Sia che sia Nelle trazioni Noi finiremo Per mettere maggiore enfasi Sulle fibre basse Del dorsale E quindi in quel caso Allora invece Ci potrebbe stare Ma Le trazioni Presa neutra strette Insieme alle trazioni Neutre Come abbiamo visto Non le vogliamo Di nuovo andare Ad utilizzare Insieme ad esercizi Che per esempio Ci vedano fare Un pulle O comunque Un macchinario Per la schiena Con i gomiti stretti Quindi per esempio Un pulle Come si vede in questo caso qua Dove magari ci fermiamo Con i gomiti attaccati al corpo Che di nuovo È un esercizio Che siccome Ha il picco di resistenza In contrazione Ci fa lavorare I dorsali E i deltodi posteriori Ma non vogliamo Nemmeno fare esercizi Che ci vedano avere Gomiti stretti Ma i gomiti Che superano il corpo Perché sì Se noi con i gomiti Superiamo il corpo Faremo lavorare In più Maggiormente anche i trapezzi Oltre ai dorsali E oltre ai deltodi posteriori Ma avremo comunque Qualcosa di ridondante Perché le fibre alte Del dorsale E deltodi posteriori Le avevamo già lavorate Con l'esercizio di pulldown O l'esercizio di trazioni E attenzione Questo vale Anche qualora Una persona Mandasse a fare Un esercizio Con i gomiti Non attaccati al corpo Ma più o meno Sui 45 gradi Ecco Anche in questo caso qua Anche se io vado a superare Con i gomiti il corpo Finirò per lavorare Le fibre alte del dorsale Finirò per lavorare I deltodi posteriori Finirò per lavorare I trapezzi Attenzione Questo vale Anche se io mi andasse a fare Un rematore Con i manubri Su una panca Stessa identica cosa Sia che io con i gomiti Supero il corpo Sia che non li vado a superare Le fibre alte del dorsale E i deltodi posteriori Verranno lavorati L'unica cosa che cambia In base a se io Supero con i gomiti Il corpo Oppure no Sarà il trapezio Quindi Se io dovessi Proprio andare ad abbinare Un movimento di Lact machine Come abbiamo visto Quindi un movimento sagittale O delle trazioni Sempre in pugnatura neutra Stretta Con qualche altro esercizio Che sia una variante Di rematore Quello che io voglio andare a fare E andare a tenere i gomiti Molto alti 70-90 gradi Non 45 Non praticamente Gomiti attaccati al corpo Perché in quel caso lì Le fibre alte del dorsale Non riusciranno a lavorare bene Ma riusciremo a lavorare Bene Il trapezio Quindi i muscoli alti Dell'upper back Quindi non solo il trapezio Ma tutti i muscoli alti Dell'upper back Coinvolti del movimento Delle scapole Insieme anche ai delto Di posteriori Quindi allora A quel punto sì L'unico movimento Che noi vogliamo andare ad abbinare Con un movimento sagittale Verticale È eventualmente Un movimento di remata Con i gomiti molto alti Perché il dorsale Non sarà in grado Di lavorare E lavoreremo l'upper back Delto di posteriori Per esempio Un rematore con i manubri Come si vede in questo caso qua È perfetto Oppure ci possiamo andare a fare Un pulle Con i gomiti molto alti Come si vede in questo caso qua Di nuovo È perfetto Chiaramente Non sono gli unici esercizi Che noi possiamo andare ad abbinare Con un movimento verticale Se io per esempio Dicessi Voglio andare a lavorare Solo i trapezzi Cosa posso andare a fare? Chiaramente potrei andare a fare Un movimento di shrug Potrei andare a fare Un movimento di kelso shrug Che è la variante Che ci permette di mettere Una grande enfasi Sulle fibre centrali E basse del trapezio Andando a togliere Completamente Dall'equazione Delto di posteriori E dorsali Chiaramente Potrei andare ad abbinare A un movimento verticale Con i gomiti stretti Di latto machine O di trazioni Come dicevamo prima Una latto machine In pugnatura molto larga Con i gomiti Allineati al corpo Leggermente più chiusi Sul piano scapolare Di cui parlavamo prima Ecco che in quel caso Andrò a mettere Maggiore enfasi Sulle fibre basse Del dorsale Però ecco Se io devo andare a selezionare Un movimento Verticale Ok sul piano sagittale E un movimento Di remata Non voglio andare ad avere Movimenti di remata Con i gomiti Attaccati al corpo Su 45 gradi Attenzione Che però Già qui tu inizi a comprendere Che non vuoi nemmeno andare ad avere Due movimenti di remata Con la stessa apertura Dei gomiti Perché Ritorniamo allo stesso punto E addirittura Potrebbe proprio Non aver senso Andare ad avere Due movimenti di remata A meno che tu Non abbia una grande comprensione Di come andare a selezionare Gli esercizi E per esempio Per chi voglia approfondire Questa tematica Di selezione degli esercizi Ti costa meno di andarti a mangiare Una pizza fuori Chiamato ipertrofia senza stronzate Vacci a dare un'occhiata Se ti vuoi andare a creare Le schede in autonomia E ecco Giusto per farti un esempio Quindi un pulle Con i gomiti attaccati al corpo E un pulle Con i gomiti a 45 gradi Tendenzialmente Non li vuoi andare ad avere Nello stesso allenamento Oppure Un rematore con il manubrio Che sia con il pet appoggiato Che sia con la mano E il ginocchio appoggiato Non li vuoi andare ad abbinare Ad un pulle Ma stesso discorso Vale per esempio Per un pulle E per un rematore Con il bilanciere Un rematore con il bilanciere Non finisce per essere altro Che praticamente Un pulle Con i gomiti a 45 gradi È la stessa identica roba L'unica eccezione Dove noi andiamo ad avere I gomiti chiusi Che può essere abbinato Sia ad un movimento di remata Con i gomiti attaccati al corpo A 45 gradi O con un movimento verticale Latt machine O trazioni Può essere un pullover Al cavo Come si vede in questo caso qua O un macchinario di pullover Perché in questo caso qua Siccome il profilo di resistenza È differente Ed è maggiormente in allungamento Quindi nella prima parte Del movimento Saranno le fibre basse Del dorsale A lavorare E allora in quel caso lì Un lavoro sul piano sagittale Può essere abbinato Ad un altro esercizio Sul piano sagittale Però ecco Nel dubbio Se non hai grandi competenze Se segui una schedina sfigata Controlla subito questa roba Perché magari potresti Stare buttando via tempo Tanto vale cancellare Completamente un esercizio E otterrai più risultati Rispetto a farli Anche perché abbiamo visto Grazie ad uno studio scientifico Che più serie noi andiamo a fare Più una volta superate Le 6 serie per gruppo muscolare I benefici iniziano a calare E se ne andiamo a fare 6 Comunque non possiamo Riandare ad allenare un muscolo Più di una volta a settimana Quindi già qui Uno comprende che Se hai queste cose nel programma Probabilmente c'è qualcosa Da ottimizzare Io che dire La mia tolleranza Al caldo Perché si Continuo a fare abbastanza caldo Qua È arrivata al termine Devo rientrare in casa Comunque Se vuoi smettere di allenarti a caso Io ricordo che è uscito Il nuovo programma Full body duro Volume 5.0 Un programma Completo di tutto Che non è una schedina sfigata Sono 100 e passa pagine Con tutte le progressioni Da andare a fare Di settimana in settimana Con il gruppo telegram Di supporto Con me e tutti i membri Un programma Veramente Che rispetta Le ultimissime informazioni scientifiche Che se lo andrai a fare Come esattamente ti dico io Otterrai dei risultati In tre mesi Che non hai mai ottenuto E questo per esempio È il feedback Di un ragazzo Che ha fatto per esempio Il volume 3.0 In tre mesi Ha aumentato i carichi In una maniera esponenziale Perché è stato zitto E ha seguito il programma Alla lettera In alternativa Ti puoi prendere L'intero pacchetto A scienza dura Che conta oggi 40 programmi di allenamento Sono più di 8 anni Di programmazione E tutti i programmi futuri Che usciranno In monofrequenza Multifrequenza Per la palestra Per la casa Dai 2 fino ai 7 giorni Nella metà settimana Tu li riceverai Gratis a vita Mi dai fiducia una volta E da quel momento Non paghi più Quindi veramente Meglio di così Non si può Io ricordo Che se non sai Siccome ho 40 programmi Veramente per tutte le esigenze Quali sia il migliore per te Schrivi a questo email qua Schrivi a questo rumo Ti risponderà Alessandro Maddalena Tutte le domande del caso Capiranno la tua situazione E ti consiglieranno In alternativa Se ti vuoi andare a creare Una scheda in autonomia Entra in ipertrofia Senza stronzate Che come dicevo In 22 lezioni Il mio videocorso Ti spiego esattamente Come andare a selezionare E a lavorare Tutti i gruppi muscolari Noi come sempre Ci vediamo Tutti i giorni all'una Sempre su questo canale Ciao a tutti Peace Ciao a tutti